Sono felice per questo altro ulteriore risultato, arrivano i primi frutti di una importante programmazione che abbiamo messo in campo in questi mesi, come provincia ci siamo mossi in tempo per cogliere tutte le opportunità che ci vengono date dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 8 milioni per il Liceo Zingarelli, un intervento importante che prevede l'abbattimento e l'intera ricostruzione per fare dello Zingarelli una scuola più moderna, più sicura e più inclusiva a favore della popolazione scolastica del Comune di Cervignola. Avevo un buon lavoro, poi l'ho perso e il mutuo è andato in sofferenza. La mia casa è andata all'asta, i miei genitori mi aiutavano, ma riuscivamo a malapena sopravvivere. Lavoravo con mio marito presso una nota azienda, percepivamo due buoni stipendi che ci consentirono di accendere un debito con due finanziari di 50 mila euro per acquistare l'auto e ristrutturare casa. Poi quell'azienda è fallita. Cominciai a giocare con i colleghi, facevo sistemi e poi sono entrata nel tunnel del gioco online. Con dieci rate di mutuo non pagate rischiavo di perdere la casa. Non perderai la casa, siamo nelle condizioni di aiutarti e lo faremo.